La scivolata, Mike, quando sei proprio al limite di una piattaforma, se la fa anche a mezz'aria, cioè la scivolata ovviamente la fa proprio nel... non so come spiegarti, però c'è un po' di scea invisibile, ecco, diciamo così. Ok, ok, è come tutto non risalti in Doom, va bene. Non avrei trovato questo paragone, ma comunque, sì, questo commento è venuto in mente, Doom, ma sì, va bene. Ciao Michele. Mi senti? Ti sento, ti sento. Lo sentite bene ragazzi? Tutto ok? La tecnologia funziona, incredibile, buonasera. Vabbè, ma sei te che ti stupisci che non funziona il Discord? Legitamente, ragionevolmente, sì. Perché? Ma te hai un rapporto conflittuale con Discord? Allora, con Discord ho un rapporto... è l'unica componente del mondo digitale con il quale ho un rapporto da vecchio. Ah, perfetto. Allora, mi è venuta l'altro giorno questa idea a scema, Michele, perché ti fai un sacco di run veteran con... che vi siete inventati questo format, te e Francesco. E però sono legate queste run sempre molto... o ai tuoi giochi o ai suoi, no? Quindi te... Per forza, certo, per essere veteran. Eh, chiaramente. Allora ho detto, ma perché non fare una veteran... Bellissimo. Su una roba in cui Michele... non è che esce dalla sua zona di comfort, ma comunque, insomma, diciamo che non è... Assolutamente veterano, per niente. Esatto. Diciamo che il mondo del platform... hai comunque delle basi, no? Nel mondo platform. Mi piace, io adoro i platform. Però da qui ad avvicinarmi a ciò che ti ho visto fare su Crash 4, no. Ma innanzitutto, Michele, una roba molto importante. Quanto hai giocato di questo Crash 4? Crash 4 praticamente soltanto il primo livello. Beh, non siamo messi proprio benissimo, però è questo il principio della veteran. Esattamente. Quindi va bene così. Ok, per me puoi accendere, eh. Proietto subito su OBS quello che stai giocando te anche per loro. Allora, innanzitutto ti faccio vedere una roba molto molto carina. Se te vedi, c'è la televisione, e te frullandone una volta, avrai il logo di Crash 1 col tema di Crash 1. Poi, frullandone un'altra volta il tema di Crash 2. E poi, se la frulli un'altra volta, Crash 3. In questa versione PS5 hanno inserito anche per un singolo frame il logo del prossimo gioco spin-off che stanno facendo, che è... come si chiama? Prima si chiama Wumpa League, ora non so come l'hanno chiamato, non me lo ricordo più. Se vai nell'angolo invece, qui a destra trovi Spyro, la citazione a Spyro. Ancora più a destra, sotto i bonghi praticamente. Oh sì, certo, delizioso. E la puoi frullare, anche quella. E poi ci sono le lettere con scritto Crunch, che era il personaggio dell'ira di Cortex. Ah, questo non l'ho giocato. Eh, vabbè, ma meglio così. E poi ti puoi mettere il sombrero se lo frulli. Il sombrero più avanti, se te lo puoi mettere, volendo. Insomma, ti butta proprio nel mod. Sì, poi c'è a un certo punto, ecco, c'è il vento e te lo sposta. Allora Michele, hanno veramente fatto gli stronzi qua, perché qui ci sono, se non erro, sei gemme a livello. Allora, una te la danno morendo meno di tre volte. Ok. Una te la danno con tutte le scatole. Una e altre tre gemme te le danno prendendo tanti frutti Wumpa che riempiono una barra. E poi ce n'è una nascosta in ogni livello. E poi ci sono i Time Attack. Cioè, in ogni livello c'è una gemma... Come? E poi ci sono i Time Attack che sono bestiali. Eh no, c'è un'altra cosa purtroppo. Peggio di Time Attack. Oh. Che hanno inserito per questo capitolo. Praticamente c'è una reliquia che si chiama Reliquia Insane. Che puoi ottenere completando il gioco con tutte le scatole senza mai morire. Il livello. Capisco. E poi sì, ci sono i Time Attack. E per vedere il vero finale del gioco devi fare per forza tutte le scatole. Il 106%. Sì, ma non hai idea, eh, Michele. Mi comincio a muovere cercando di ricordarmi qualcosa. C'è una bella citazione, anche qui per quello ti dico a che cazzo stavano parlando. Questa è una citazione ovviamente al primissimo livello del primo Crash. Cioè, sì, esatto. E hanno messo una scatola nascosta proprio dietro questo muro che è appena rotto. E questa è una citazione alla scatola nascosta appunto del primo livello di Crash. Ma anche qua, boh, chi la prendeva sta citazione, boh? Beh, però è bello, dai. No, no, per noi sì. Per noi che stiamo... Però immaginate un bimbetto che si approccia a questo platform. Ci diventa scemo, poveraggio. Soprattutto negli ultimi mondi. Allora, esatto. Allora basta il contatto. Sì, sì, sì. Anche le sfide a tempo di Tropical Freeze senza senso. Uguale Donkey Kong Country Returns. Sì, eh? Sì, sì. Donkey Kong sono rimasto tre io, mi dispiace tantissimo. No, tu non hai idea, Michele, di quanto cazzo sono belli Tropical Freeze e Country Returns. Perché la chat ti dice cosa? Ho saltato una cassa. Quale cassa ho saltato? Dove hai saltato una cassa? Dove, dove? Aspettate. Allora, se t'hanno scritto mancato cassa potrebbe essere anche un meme, quindi occhio. Oh no, 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 mi fido di loro. È vero, lo saltato. Ah sì, eccola lì. Grandi. Comunque, di base non fidarti mai, se puoi. Grazie a Leon, per me e a Bado. Se puoi. Potrebbero essere in giro anche i miei, quindi capisci bene? Lasciate un po' diverse. Uh, ok. Qua praticamente hanno cercato di espandere un po' il mondo del Crash Tiki, che è il primo Crash, diciamo, un pochino anche del secondo. Perché poi nel terzo viaggiavano nel tempo, no? Quindi hanno fatto vedere qual è il villaggio dei selvaggi che abita all'isola Umpa. Ti fanno vedere un pochino appunto di questo villaggetto. Il problema è che poi questa parte Tiki, che è la parte migliore di Crash, secondo me, la parte più esotica, purtroppo va un po' a scomparire. Hai perso la gemma segreta, comunque. Wow, io stavo andando sparato. C'è una gemma, quindi, ma è visibile occhio nudo, oppure... No, no, sono molto... Allora, nel primo livello te la fa vedere, però parlavi con me, forse... Dimmi, dimmi. Vai avanti, vai avanti. No, ma non è infinito, te lo fa una volta, poi basta. È praticamente qua, comunque fuoco. Fuoco, fuoco totale. Devo spaccare qualcosa? Devo saltare sopra? Allora, pensa a cosa si sta facendo fare il gioco. Scivolare. Bravo. Il gioco mi sta facendo scivolare. Quindi, quindi, quindi? Quindi, bravo. Ci sei riguardo. Sì? Oh! Smart! Allora, calcola che questo è facile. Le prossime saranno quasi impossibili e, tra l'altro, ti faranno incazzare perché alcune sono veramente impossibili. Cioè, se non guardi una guida, non puoi trovarle. E poi questa cosa l'hanno fatta anche con delle specifiche scatole che ti faranno diventare scemo se vuoi la gemma di tutte le scatole. È comprensibile. Ok, questo bonus è una chicca. Ok. La grotta che vedi dietro di te è la grotta in cui si infrange un petto della nave di Cortex in fondo a Crash 2 e che all'inizio di Crash 3 libera a Quaku, la maschera cattiva, il fratello di Uka Uka. No, scusami, Uka Uka, il fratello malvagio di Aqua, faccio sempre casino. E lui si libera e nel terzo fa Comunella con Cortex. Perfetto. Ma guarda che comunque esteticamente è una festa per gli occhi continuo, eh? Sì, sì, sì. No, quello non c'è da dire niente. Poi un'altra cosa che hanno proprio sbagliato. Ora i bonus li vedi semplice. A un certo punto diventeranno quasi dei puzzle game. Dei puzzle platform per farti prendere tutte le scatole. Un'altra citazione bellina è questo divano. Sì, certo, la sorella. C'è il cuscino di Tauna. Previamente cita i bonus di Crash Bandico 1, dove c'è la Tauna da spettacchi in fondo. E me lo ricordo. Sono molto sobria, sì. Sì, era la bomba sexy che qui hanno cancellato. Occhia, strano. In linea 2023, 2022, 2020, eccetera. In linea mistero. Ah, ora sono indistruttibili. Sì, ecco, anche la maschera da tre qua l'hanno fatta un po' maluccio. Te la danno poco e poi soprattutto non è così invincibile come gli altri giochi. Però vabbè, sti cazzo. Figurati, io sono di scuola che la maschera da tre dovrebbe farti evitare anche di cadere nelle buche. Cioè dovresti tipo rimbalzare, qualcosa del genere. Però non l'hanno mai fatta manco nei primi, sicuramente. Insomma, te la sei guadagnata e quindi dovresti poter... D'accordo, ha senso. La sono conservata, capito? Ah, che vero il performing. Ok, sarò molto lento. Sarà qualche percorsino particolare, immagino. Ah, in realtà questo gioco è fatto bene invece per questo. Perché non hai percorsi... Ho dimenticato una scatola anch'io. Ah no, no, c'è l'altrame. C'è un percorso normale per il livello normale. Quando andrai a fare la prova a tempo, i percorsini improvvisati ti serviranno per arrivare in tempo e prendere la reliqua di platina. Carino. Ah, l'ho presa? Buono. Sì, sì, sì. Hai preso anche la reliqua in senso e non sei mai morto. Uh, quanti trofei sto prendendo. Troppi, troppi per me, troppi. Gemme e skin, ah sì, ma che belle che erano le skin, me le ho viste tutte. Ecco sì, perché questo è un... T'ho visto giocare alla demo e vi hai detto una cosa molto saggia. Cioè, vi hai detto, che bello che finalmente il gioco ti prema con delle skin gratis per la tua abilità. Cioè, hai preso talmente tante gemme che ti regaliamo le skin. Adorabile. Tra l'altro le skin qui non sono nemmeno una cazzata, perché alcune sono proprio esteticamente bellissime. Ma a parte questo, alcune citano delle robe interne alla lore o alla storia produttiva di Crash. Per esempio, una delle ultime skin è la skin di Crash come era stato concepito in origine. Cioè, Zembillas, che è il designer di Crash, prima non voleva un bandicoot, ma voleva creare un altro tipo di animale. E hanno fatto la skin di quell'animale con quel nome. Willy the Wombat si doveva chiamare Crash. No, vieni, voglio giocarlo tutto così, vabbè. No, 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 non ti prego, Michele. Volevo fare una live, ma non... No, no, ne facciamo una. Non distruggerti il lavoro. Allora, qua c'è un'altra cosa molto figa. Ora, non morirci però. Ok, dimmi. Dopo che superi quel pezzo lì. Sì. Ci saranno due piattaforme... Vai, 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 avanti, poi te la faccio dire, io metto in pausa. Bravissimo. Ok, 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 ok. Oddio! Uh! Mamma mia che... Bravo, comunque, come salvataggio. Top, hai spuntato tutto quello che puoi fare. Ok. Ok, questo è stronzissimo. Ti fa dare il colpo proprio quando stai per saltare. Ok. Quello lì è un mega frutto Wombat, è una novità. Praticamente sono 20 frutti Wombat insieme. Una cosa legge. Forse 10, non ricordo. E vabbè, si può salire sulla... Eh, vabbè, sì. Sì, certo, certo. Ecco, vedi... Ecco, senza morirci, rimani un attimo sulla corda. Ci sono, dimmi. Vedi questo... Quel disegno sul... Sì, lo vedo. Ecco, quello è il design di Uka Uka, la maschera cattiva, che fecero per Crash of Titans. Sai quando iniziarono a tiltare? Che fecero giochi per PS2, dove Crash montava sopra questi mostri giganti. Ecco, quello era il design del vecchio Uka Uka. Hanno inserito queste chicchie per soddisfare tutti i fan di Crash, di tutte le incarnazioni di Crash. Carino, perfetto. Allora proseguo normalmente, immagino. E pure. Ok, guarda. Tra l'altro se fletti leggermente l'analogico, Crash cammina, è una cosa molto carina. Ah, sì, no, stupendo. Ovviamente. Di solito corre sempre. Moderno. No, forse nel secondo, con gli analogici avevano già entrato tutta questa cosa. Ok. Che bello che da vedere. Ok. È già passato l'indizio, mi pare di no. A un certo... Il gioco... Vedi perché ti ho detto di vedere anche il disegno prima? Perché oltre a delle cose estetiche banalotte, così per fare la citazione e la posa, in realtà il gioco ti suggerisce vari segreti all'interno dei livelli. Insomma, stai attento. Stai sul pezzo, d'accordo. Sì, sì, sì. Questo gioco è proprio stai sul pezzo. Che poi è incredibile. Ti viene sempre l'istinto di essere veloce, ma devi guardarti intorno per poterli carpire. Eh sì, sì. Qua sì. Qua sì. Perché hanno nascosto tantissima roba ovunque. E qui infatti c'è un altro bonus. Sì. Ok. 12 cassi. Sì, qui ancora sono... Ah, aspetta, posso fare il... Ah, c'è il salto più forte. Sì, se fai scivolata e doppio salto, beh, questo bonus serve proprio per farti capire queste meccaniche all'inizio. Chiaro. Così almeno lo sai. Esatto. E per fare il mega salto, appunto, fai scivolata e doppio salto e fai il salto più grosso che può fare crash in assoluto. Adagio. Tra l'altro, fra un po' arriverà, secondo me, la cosa che ti farà esplodere il cervello, però è fra un... Mi pare un poco, nel prossimo mondo. Grazie, Boss Fons, Shepard, Il Caotico, Damiano, L'Amichevole, Barro, Sam, Lorenzo Gianni, Nak, Christian, Francesco, Fre, Scalartugan, Toleraco, Casa Cassiopeia, Pati e Rani. Grazie. Ecco, qui c'è un... Ah, qui c'è... Ok, sì, lo vedo, ma... Cosa può significare e dove? Lo capirai. È un percorso, devi girare intorno alla gemma, qualcosa del genere. Bravissimo. Vediamolo. Ok, ok. Ah! Eh, capisci. Ma dai, ma che cosa carina! Tra l'altro hanno messo anche il... Vabbè, vedi, hanno messo anche il suonino per fartelo capire. Ok. Ho sbagliato. Vabbè. Beh, lo puoi rifare, eh, non è... Oddio, ho sbagliato! Oh, fuck! Bene, il senza morire è andato. Allora. Ho sbagliato. Aspetta, devo uscire da qui. Uh! Immagino che si resetti appena... Ok. Aspetta, intanto distruggo le scatole che qui... Che qui sono stronzi anche col battito delle TNT, eh. Facciamo una cosa per volte. Concentratissimi, proprio col turbante in silenzio, proprio. Ok, però non è apparsa la gemmina. Come non è apparsa? Ah, devi saltare da... Ah, sì, perché è vero. Perché forse devo cominciare... Vediamo, aspetta, aspetta, aspetta. Devi cominciare da sinistra. Esatto, esatto. Grazie Marzios, grazie Cito Lost. Grazie Iggy, benvenuto. E Gammarzone, benvenuto. Ah, c'è il suono, è vero? Sì, sì. Piccolo suonino, proprio. Ok. Però... Non appare, vediamo. Eh, mi sa che hai sbagliato il percorso. Perché forse una volta fatto il giro devo fare un'altra cosa, aspetta. C'è... Ah, sì, è vero! Ok, è chiaro. Ok, ok. Non è un fare il giro, cioè proprio devi entrare... Sì, sì, esatto. Che cosa? E comunque le scatole normali intanto levatele dal cazzo, le TNT. Sì, no, no, lo farò. Esatto, lo farò, lo farò qua. Oh, bravo. Oh. Ok. Ora non... Quando prendi la gemma non andare subito avanti, se no fai la cazzo. Ok. Cioè, ecco, meglio se fai così. Bravissimo, bravissimo. Ecco, questa cosa che stai facendo già è utilissimo per quello che verrà dopo. Ok. Prego. Allora, sai perché le piattaforme stanno tiltando? Perché questa è una delle maschere quantiche che ti serviranno per switchare da una realtà all'altra. Quindi lei dormendo sta sfruttando il suo potere in maniera incauta, ecco. E quindi le piattaforme si spengono e si accendono a caso. Però dopo potrei controllare questo potere. Via! Questo, vabbè, citazione al classico. Sì. Di Crash. Lo adoro. Tra l'altro qua c'è una bastardata unica. Ecco, esatto. Ho visto... Con la coda dell'occhio ho visto che te ne sei accorto. Mamma mia. L'hai presa, no? Sì. Quella è la gemma nascosta. Porca miseria, all'inizio tra l'altro. Trattato il mostro ha un design incredibile. È bellissimo. Sai che ha dato un apporto enorme, un italiano a questo gioco? Ma è un enorme. Ha fatto anche la cover. Fa tutte le cover art. Ha fatto la cover art anche dell'artbook. Il design di un sacco di personaggi. Che meraviglia. Con la Saviori, tra l'altro, sta a Firenze. Lavora anche per Blizzard, eccetera. Meraviglioso. Andatelo a seguire su Instagram, ragazzi, perché fa delle cose senza senso. Adoro questo genere videoludico incredibile. Devi stare sempre sul pezzo, porca miseria. Le scatole, anche se te ne spugge qualcuna, non ti preoccupare perché le rompe lui. Oh! Ok. Esatto. Vabbè. È andata bene, dai. Rosso Rubino. E adesso c'è la classica mappona che è un po' la mappa del primo Crash. Perché poi il secondo e il terzo avevano le Warp Room, no? Se ti ricordi. Invece qui hanno preferito darti proprio l'estetica, la materia della mappa. Finalmente. Come in Crash 1. Tra l'altro, se clicchi il tasto menu, vedi la percentuale, proprio vecchia scuola. Cioè, vedi che gemme hai preso, quante te ne mancano. Insomma, tutto. Bello. Progressi gioco. Le terrificanti reliquie, ovviamente. È certo. 40 secondi, un minuto e 40 secondi. Mamma mia. No, ma sono veramente stronzi. Ah, qua, cambioni diverse, però ci sono tutti i livelli. C'è il nuovo mondo, che è un mondo ispirato all'estetica di Mad Max. Cioè, quindi un industrial decadente molto particolare. Ecco qua, ti fa imparare le meccaniche della mascherina. Mamma mia. Ti consiglio vivamente di esercitarti con R2, perché il triangolo è un incubo. No, ma non avevo dubbi. Cioè, solo la proposta del triangolo mi ha fatto sorridere. Allora. Ok. Ok. Michele, salta un attimo. Ah no, ok. Vedi quel pallino? Io l'ho criticato aspramente. Perché semplicemente? Perché lo puoi togliere, volendo. Puoi lasciare solo l'ombra di cash. Ma è l'inferno. Cioè, l'inferno. Senza quel pallino è finita per la vita di ognuno di noi. Qua c'è una cosa molto carina. Qui puoi sentire i dialoghi di lui, però se ti rompe il cazzo puoi distruggere il megafono. Ah, e c'è anche il trofeo. Chiaro. Ovviamente. Io me lo aspettavo un trofeo alla rottura di tutti i megafoni. Invece te lo dà subito, così a citazione. Guarda, che cosa carina. Sì, dopo diventerà un incubo, però insomma. Esatto, passa. All'inizio è tutto bellissimo. È tutto carino finché non diventa... È come Nintendo. Solo che Nintendo non diventa mai difficile davvero. Allora. Ti complica le cose. Oddio. Ok. Oh, mamma mia. Easy. Sì, però hanno messo il doppio salto. Istantaneo. Sono veramente stronzi che uno salta dicendo che è finito. Invece ne fa due, così per cadere. Guardalo. Ecco qua, Michele. Quando vedi delle casse, poste in alto, eccetera, le Nitro lasciano stare tanto le scoppi con il punto esclamativo finale. Sono solo lì a romperti i coglioni. Ecco, però, quando vedi le superfici in alto, delle piattaforme abbastanza alte, te un doppio salto, buttacelo sempre. Dai un'occhiata a quello che potrebbero nascondere. Perfetto. Per esempio, sopra quel barilozzo, hai trovato la casca che nascondeva in cima, in cima? Sopra quale? Eh, c'era un barile un po' più avanti, un po' più indietro, scusami. Un po' più. Ah, Dio! Ok, sto bene. Ne puoi switchare, eh, le Nitro? Sì, no, lo so, sì, sì, ma l'ho fatto prima. Ti abituavo. Ecco, sopra quel barilozzo c'era... Ah, sì, eh? Eh, sì. Abituati, Mike, a fare sempre la scivolata. Cioè, il salto normale lo devi dimenticare. Il salto con la scivolata è l'unico salto. Il salto con la scivolata è l'unico salto? Ok, ce l'ho presa. Ora, non sempre, sempre, però... Non, ma... Quando vedi una superficie alta, abituati a fare questo. Se ti auto fa il salto alto, andiamo un po' sempre. Vediamo, eh? Ah, è vero, hai ragione. Capito? Ed è pieno di queste stronzate, è pienissimo. Per esempio, in questo livello, vedrai delle casse nascoste che ti devo dire, perché non le troverai mai, che fanno parte un po' di quella categoria di oggetti che hanno voluto inserire a tutti i costi in posti impossibili che rovinano, secondo me, un po' la scoperta, no? Sì, perché se diventa troppo meccanico, dici, non esploro, perché tanto non ne vale comunque la pena. Eh, bravo, non le trovo, tanto so che non le troverò. Guarda a te come devi vedere la testa. Allora. Ah, ma si rompe! Non è questione di attivare e disattivare, si rompe. Che cosa, scusami? Il barile. Io pensavo di aver sbagliato prima di essere caduto. Certo, sì, oltre a questo cade, sì, ovviamente. Ci mancherebbe altro. Ok. Però qua... Ah, sì, posso fare forse questo? Uh! No, se non riavvio il livello non prendo la... La dico, ragazzi. Eh! Ovviamente. Te va del mio orgoglio. Di Conscious Gamer. Ok. Sì, c'è il banto, dai. Guarda qua la linguetta. Ah, ok. Oh, hai bisogno di un quick thinking, eh? Non è vero mai, Crash. Non è vero. E a un certo punto è caduto di peso, ma il peso non doveva esserci ancora. L'inerzia. Sai, no, che qua poi anche... Esatto. Sì, no, ma infatti il quick thinking era quello... Sì. Ok, niente doppi salti qui. Qua quick thinking ora, dammi che... Poi dopo c'è delle cose surreali. Devo ricominciare il livello subito. Ho perso una cassa, non si può fare. Oh, mamma mia. Ti viene proprio in mente quanto puoi fare correndo. È vero, ragazzi. No, non lo consiglio nemmeno al mio peggior nemico di platinare Crash 4. Ah, già qui c'è la cassa più stronza della terra. Quello dirò a Michele quando ci arriverà, perché... È durata molto poco la gemma dell'anno morte, ma va bene. Proseguirò comunque. No, la gemma dell'anno morte ce ne è tre. C'è tre tentativi. Ah, i tre tentativi. Sì, però la gemma di insanity non devi mai morire. Ok. E prende tutte le casse, perché... Oddio, sbaglio da so... Ok. Non si può fatfingerare in questo gioco. Questo è troppo anche per... Mi sa. È quando hai il dito che scivola su un pulsante. Lo posso intuire, chiaramente, però... Non l'avevo mai sentito. Venga, però... Oddio, non... Eh, sì, se fai comparire... Paura mi son preso, ok. Ok, ora lo so. Sì, sì. Se ti fai comparire piattaforme nel volto muoce. Oddio! Odio. Guarda il tempismo. Bravo. Piano. Bravo, calma. Perfetto. Adesso. Bravo, ok, perfetto. Pulito. More or less, ok. Ora possiamo fare... Il non fallimento. Non sento. Unforgivable. Ok. Bravissimo. Ok. Bene, qua c'è una delle scatole più stronze del gioco. Ok. Perché è in cima a quella piramide. Hai una possibilità per prenderla. Oddio. Facendo il salto più lungo. Prima di premendo la croce del salto. Nell'esatto momento in cui tocchi la scatola col punto interrogativo. Quindi devi darti la spinta con la croce sulla scatola al punto interrogativo e raggiungela. Troc'è una possibilità perché si rompe una volta sola. Eh, bravissi. Oddio. Le altre le rompi con la schiacciata. Prima fa arrivati a N.T. Ok. Queste sono le scatole Lucchetto. Si distruggono solo così. Le hanno introdotte in Crash Bandicoot 3. Porca miseria. Ok. Qui c'è il punto esclamativo. Ah, ok. Fa questo. Che ansia. Però ovviamente ti ci mettono delle scatoline da rompere così per gradire. Sì, sì. Non vorrei mica... Non penso... Oddio! Con la prospettiva più stro... Amico, qui inizia la S e c'è anche il cambio di binari oltre al cambio di... Oh, ok. Così, per semplificare la vita. S. Mamma mia. Infatti fammi tryhard a un attimo perché qui... No! Amiche, è vero, poi c'è anche questo. Sì, sì. Devo uccidermi. Mamma mia, c'è proprio il... Ti... Ti... Oh no. S. Oh no! S. S. Non sopravvivremo. E vabbè, ora... Non essere così pessimisti. L'hardcore gamer dentro di me comincia a vibrare come una fiera. Allora, vediamo un po'. Piano. Ma ha una fiera tipo Luca Comics o come una fiera di una bestia? Come una bestia. Ah, ok, ok. Tipo Lady Dante, le fiere. Esatto, esatto. Ok, ok. Quindi si può oscillare, attenzione. Sì, sì, sì. C'è anche questa simpatica cosa. Con la prospettiva che ovviamente devi intuire... Sì, è un po' a cazzo. È un po' a cazzo, sì. Ora, qualsiasi cosa ti venga in mente di fare, non andare subito al bonus, per favore. Ok, ok. Ecco, qua c'è la più grande stronzata... Prendi il checkpoint così, per salvarti la vita. Ecco, qua ci sono delle scatole nascoste, caro Mike. E se prendi il bonus, le perdi definitivamente. Sì. Prima di te, prova a capire dove sono. Le casse... Dentro la gomma. Esatto. Oddio. Perché te l'ho detto, cioè, si intravedono poco poco. Sì, ma se non c'è, non l'avrei mai guardato dentro la gomma. Esatto. Prima di te, se prendi il checkpoint, quando te... Scusami, il bonus. Sì. Quando ti torni dal bonus con la piattaforma, la piattaforma si va a appoggiare sulla pila di pneumatici a sinistra. Non è... Sì, ma... 22. Cominciano già a diventare complesse. Bravo, come ti avevo detto, sì, 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 sì. Mamma mia. Poi c'è anche questa stronzata. Se te prendi la TNT... Questa è una stronzata sbagliata, però. Se te fai scoppiare la TNT e salti sopra la TNT e poi switchi di dimensione e la TNT che te hai switchato è accanto a un'altra, praticamente scoppia solo la singola, non ti scoppia quella accanto, perché sei nell'altra dimensione. Per me è una stronzata allucinante, però. It seems not. Allora. È diventata una live ETA-ing, però. Sì, 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 sì. Sì, proprio. Sì, conosco ovviamente Skylanders, ragazzi. Non mi ci sono mai avvicinato perché il design di quei pupazzetti è la cosa più bella che esista e non voglio saperne niente. Ogni cosa che fai è dolore. Cioè ti fa capire che ogni scelta che fai deve essere incredibilmente attenta. Sì, e siamo al terzo livello. Ma scusa, ma se sono entrambe nella dimensione spettrale, no? Dovranno ben scoppiare vicine. Sì, infatti, per quello ti dicono che è una stronzata. Ero convinto che fossero quelle che rimbalzavano. Ero pronto a fare il figone. Sì, ma è perché qui c'è una cosa che hanno mantenuto dal primo crash. Ovvero che loro hanno cinque rimbalzi con le scatole lì. Ma se ti allontani da una determinata area invisibile, ti puoi aver fatto anche un solo rimbalzo. Ma queste scoppiano dopo il primo. Ok, è la cosa più controintuitiva della... Quindi... No, ragazzo, tutti e tre, tutti e tre. Tutti dal primo. Il momento che bello è finito, mi sa. Gianca a me sì. Ecco, ora devi prendere quelle nella seconda colonna. Esatto. Ecco qua. Quella, era. Perfetto. Sono vivo. Ok, oddio, ti mettono anche... Eh, wow, diavolo. Dario, tu hai preso qualche... ...disfatto. Erivo subito, eh, Michele? Chissà come funziona. Quello. Come si arriva lì? C'è una strada. Ah, eccolo, infatti, infatti. Eccomi, ecco, sì, sì. Ero andato ad aprire la porta. Eh, sembrava che mancasse qualcosa. Anche qua ci sono delle bastardate, perché poi non ti danno più possibilità per farle. Cioè, ho lavato la spacca, sono cazzi tuoi, questo è un po' il punto di... Sì, 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 sì. Dovevo ricordarmi del fatto che questo è il terzo livello. Ok, non è andata come pensavo. Non è... Nella mia testa non è... Quello che sarebbe dovuto succedere. Oh, madonna. Oddio. Comincio a sentire quello che potrebbe diventare dopo. Allora, scivolata, Mike, perché vedo che... Ecco qua. No! È fantastico! Quindi devi fare come la piramide di casse prima. Niente. Soffrirò. Allora. Ok. Grazie Vircala, grazie Dragonite, Filippo, infermiare l'ora e il gempo per l'abbonamento. Lasciato tentare, provare, morire. Scusi che funziona, eh? Ok. Ok. Timing? Eh, lo so. Ma devo premere X quando tocco la cassa. Appena tu... Bravissimo, bravissimo. Non te lo so. Le pene le valgono qualcosa. A noi devi accumulare un po' per riempire una barra che ti dà tre gemme progressivamente. Però diciamo che non è che li devi prendere tutti, eh. Ecco. Però ti svelo questa cosa. Nella demo, Michele, avevano messo la gemma delle mele. Cioè, devi prendere tutte. Poi hanno detto, forse è un po' troppo, ragazzi. E l'hanno tolto. Il gioco definitivo. Bravissimo, Mike. Ok. Ok. E... Oh! Vediamo se le hai prese tutte. Bravo! Sono solo morto undici volte. Grande! Poi sei proprio affrante. Cioè, sei proprio... Guarda quel replay che mi dice di farlo. No, no. Ma andiamo avanti, promesso. Andiamo avanti. Ok. Mi sto aperto anche la tua shot, così leggo anche la tua shot. Ma che bello! Il tuo gameplay più il mio gioco. Bene, ragazzi. Complimenti. Che bello che è l'effetto del fuoco. È magnifico. Grazie, Marco. È tutto molto cartoon. Un... Sì! Sì, sì. Perché comunque loro quando hanno creato il primo Crash si ispiravano ai cartoon dei... Più che altro l'Uni Toons. Qui invece sono ispirati più a un'estetica... Appunto Skylanders... Insomma, un'estetica un po'... Più giocosa, più giocattolosa. Però a me piace tanto. È veramente tanto bella. Oh no, sono stato da danneggiare. Qui cosa c'è? Troppo da rompere. Ok, 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 ok. Poi. Si aggretino. Ok. Ogni angolo sembra poter nascondere qualcosa. Eh, a un certo punto diventerà esattamente così. Solo che questa roba qui ti porterà talmente tante morti perché... Cercherai talmente tante cose in giro che alla fine muori, muori, muori nel tentativo di trovare niente poi. Però purtroppo a volte c'è davvero qualcosa. Questo cos'è? Che cos'è? Ok, è un percorso. Ah, sì, è vero, questa è una cosa interessante. Se vuoi spiare degli angolini senza doverci andare te fisicamente magari... Ah, è vero, posso fare la la vita a destra. Bravissimo, bravissimo. Ok, ok. Ok. Cosa è carina? Prendi sto futto. Ok. Ah, sei già nell'area della gemma colorata, ok. Sì, esatto. Sì, una cosa che hanno preso dal Crash Bandico 2. Ma che paura! Che hai fatto? Che è successo? Mi ha incenerito ad area di influenza proprio il casco dell'avversario. Non me l'aspettavo. Non ero minimamente preparato per una morte così improvvisa. Sono i nemici colpibili con la scivolata. Ok. Con Crash Bandico 2 hanno inserito appunto più varietà di nemici e proprio nel libretto c'era anche scritto, ehi, questi qua, se vedi dei nemici con degli spunzoni intorno al collo vuol dire che devi scivolare, se no puoi saltare. C'era tutta la classifica dei nemici dentro al libretto per farteli affrontare in una maniera giusta, era molto carina come cosa. Come ci si arriva là sopra? Oddio, più vuoto. C'è una scatola rimbalzante nascosta tra la pila di TNT e Cazzo e Mads. Incredibile. Allora, secondo me, Tyon, Mario è superiore a Crash. Ma perché semplicemente è riuscito... Ma di brutto. Ma perché è riuscito nel tempo a rinnovarsi completamente sempre e ad avere dietro delle persone che riuscivano a intercettare qualcosa... Senti, vogliamo creare la guerra nelle chat? Cioè? Tipo proporre Crash Team Racing migliore di Mario Kart? Allora, forse quando è uscito Crash Team Racing ti posso anche... Vabbè, Mario Kart 8 ormai è inarrivabile, però diciamo che quando uscì Crash Team Racing io ero completamente folgorato da... Attenzione, attenzione, la guerra! Ci sta, quello va un po' a gusto, anche perché erano andati quasi allo stesso livello. Cioè, è come preferì Goku e Vegeta ai tempi della saga dei Cyborg, cioè, boh, decidi poter... È vero. Però, secondo me, a lungo andare, no, Mario ha sempre vinto la prova del tempo, cioè... Eh sì, eh sì. Ha avuto anche le palle, cioè, io per esempio non apprezzo molto la scelta dello Splac in Sunshine, però hanno avuto le palle di fare qualcosa di veramente diverso per il personaggio. Ma quello è Nintendo in generale, quello sono incredibili. Guarda anche Zelda, il cazzo... O Pikmin, solo l'esistenza di Pikmin ti fa capire che questi sono completamente andati, cioè, fanno quello che gli pare, ok? Sono andato avanti di... Sì, ce l'ho fatta, infine a... Oddio! Oddio, no! No! Maledetta! Oh! E lì come faccio ad andarci? Cioè, c'è... Eh, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Oh, ok. Lo puoi capire. Ok, ma non pu... Ma è tempo? Cioè, devo saltare in base, devo staccarmi... Non posso staccarmi dalla... No, no, ma è una cosa che non è legata ai binari. Oh, ok. Oh, no! Due morti, dai, dai, sono ancora sul pezzo. Ma perché ti sei fissato che ci arrivi da lì, ma ti assicuro che non ci arrivi da lì? No, 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 no! Ho perso una cassa prima, 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 prima. Ah! Ho assimilato il fatto di non doverci... Ok. Sì, però anche qua, no, ci sono certe angolazioni, eh? Non puoi beccare, cioè... Devi morì per forza. Sono pronto. Ok. Bravissimo. E mo? Pensa a quello che ti ho detto prima. Devo scivolare, vero? Devo davvero scivolare? Prova, prova. Sai che la scivolata funziona anche nel... Ehi, funziona anche nel nulla, no? Eh, ho capito, ho capito. Ti hai paura che la scivolata ti porti a parabola sotto, ma non funziona così, giuro. Ok, ok, ok. Vai in parallelo, sempre. Quindi devo fare... Ah! Oddio! Eh, eh. Ma, ma... Ok. Eh, eh. Ok. Ok. Vai in parallelo, la scivolata. Eh! Dai, è un Souls. Di l'altro lo devo fare anche io. Già me è nascosta questa, era? È un Souls. Sì, perché praticamente te, attivando il bottone, hai aperto un vano che ti porta la giama segreta, capito? Hai bisogno di essere tamponato, me chirurghile. Ok. Mamma mia, è incredibile. Ok, non ci sono gomma pneumatici da controllare. No, bravo. Però, dubbio, tepponitolo sempre. Grazie da Nicolati, grazie. E questo? Pagliato, Morno, Axel Barlow, Vov96, Pisello Urlante, Canto Suitare, Pippo Pappo Puffo. Ecco, qua c'è il primo... È uno dei bonus che ti dice, guarda, nei bonus... È un puzzle, sì. Potremmo farti tornare indietro fino all'inizio, eh? Sappilo. E datti una regolata. E pensa a quello che ti ho detto riguardo i rimbalzi qua, eh? Eh. Perché è fondamentale, tipo. Ok. Va bene. Mamma, però è troppo divertente. Eh, lo so. No, più che altro la soddisfazione è grande, grande, grande. Che poi, guarda, è questo bonus fatto in questa discarica con l'elica. Ma infatti, cioè, ci sono background più belli di alcune mappe intere di videogiochi moderni che hanno fatto... Oddio! Ah, già, è vero. Ecco. Mamma mia, atterraggio d'emergenza è uno dei livelli più belli di sempre. Cioè, però è anche stronzo. Grazie jumps, grazie nappe. Lo sapevo! Bravo, Mike! Te l'ho detto, quelle superfici lì, mh, sono sempre controllate. Sì, mh, esatto. Oh, mamma mia. Questa è precisa. Lì non c'era nulla, però... Te ci c'è! Con caro, con caro. Ok. Mike? Dica. Hai già controllato la sopra? Sì. Ok, bravo. No! Non abbastanza! L'ho fatto, però... L'avevo fatto! Mannaggia me! Eh, ma certe cose non ci arrivano nemmeno con l'analogico, eh? Cavolo, mi sentivo così figo di averlo fatto. Ok. Cioè, le cose le devi proprio sperimentare. Pure! Eh, c'è. Il livello 4. Ma... Che c'hai? Che c'hai? Che c'hai che è successo? Che ansia. E qui? Forse c'è una trappa. Oh, c'è davvero qualcosa! Eh, oh! Vedrai! Ottiii! No, non... Che culo, che c'hai! Là, c'è. È complicato mantenere la sanità mentale. E come faccio qua? Eh, lo so io come faccio. Ah, perché... Ma qua quanto sono lunghi, sti livelli! Ci sono infiniti! Ma poi questi fatti tutti di corso, vabbè. Io... Sì, sì. Eh, pensa, pensa a questo. Io... Boh! Ah, e poi... Cioè, non sai il bello dei livelli, delle prove a tempo. Praticamente, per far sì che tu prenda il platino, ci sono due modi. O sblocchi un power-up finendo il gioco, che secondo me è meno utile di quello che puoi far già dall'inizio, che è scivolata... scivolata a giravolta continuo, su tutto il livello. Che ti permette di andare molto più veloce. Eh, certo. E quindi devi spammare questi tasti distruggendoti la mano, c'è una cosa sostenibile. No, mi sentivo un figo! E invece non era un segreto. Che quale? 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 No, niente, ho visto dei saltini, ma in realtà erano per... per la trappola e non per me. Dario, prova... no, Toy Spore Bob no, ragazzi, va bene anche così. Queste sono ancora difficili per me, ragazzi. E' più possibile restare seduti, questo show vi farà letteralmente schifizzare di... What? Ho fatto la mossa alla campione. Cosa vuoi da me? Ah, ci arriva dopo, ok. Ma che ansia. Come fai a saperlo? Porca vacca, qua devo fare una scivolata. Sì, ma hai così tante tecniche che in effetti ti fomenta parecchio, perché... Cioè, serve... Eh, e poi dopo sblocchi altre maschere, eh? Quindi non ci sarà solo quella. Poi immaginate le combo. Sì, vabbè, ho capito, ma ci sono perfect cancel su Street Fighter 4 che sono più facili. Ok. Non so nemmeno che cazzo hai detto stavolta. Perfect. I cancel delle mosse di Street Fighter. Ah, no, ok, ok, ok. No! Grazie, Dordo, grazie, Lata e Luca, 0-3-Pigo. Ok, ok, hai fatto. Eh, sì, ma... Che gemme hai preso, fammi vedere. Ah, vabbè, sei andato bene, dai. Dai, dai. Ok, nastri flashback adesso. Ti faccio vedere. Questa è veramente la figata finale. Ok. Si torna agli anni 90. Gioca a nastri flashback. Aiuta Crash e Coco a superare i malefici esperimenti di Neo Cortex. I nastri flashback si collocano prima di Crash 1. E praticamente Cortex sono dei test che fa Cortex su Crash e su Coco. E i dialoghi che sentirai da Crash... Eh, scusami, da Cortex, Brio ed Engine. Engine, in realtà. Ti spiegano certe cose di Crash. Certe cose della Lord di Crash. Compreso il perché Coco non c'è nel primo gioco. Cioè, quindi cercano di spiegarti, di giustificarti tutto quello... Perché Crash è fatto così, perché ha raggiunto quel potenziale e tutto il resto. Sto morendo. Ed è tutto basato sui bonus di Brio e di Cortex che prendevi nel primo Crash. Quindi solo scatole ed è un puzzle platform, praticamente. Cioè, devi capire come dosare ogni salto. Ah, Engine si dice... Motore si dice proprio Engine. Va bene. Ah, allora Engine. E per esempio Cortex è figlio di una famiglia di circenzi. E solo che lui voleva fare lo scienziato. E quindi veniva preso per il culo a scuola, bullizzato. Talmente tanto bullizzato che la N che c'ha sulla fronte gliel'hanno tatuata. Dei bulli. E vuol dire nerd. Assurdo. Sì. Sì, ma... Ragazzi, non c'è spazio in schedule. Io di questo sto male. Sta cosa mi sta facendo accendere la fiamma, proprio. È bellissimo. È veramente bellissimo. Come fai a saperlo? È tutto scritto nel libro di Crash che è uscito ai tempi di Crash 1. Ci sono vecchi concept e tutte le storie legate a... E li scartano. Quindi tecnicamente non sono canoniche. Però perché no? Tanto alla fine ci si collocano bene lo stesso. Forse in questo un po' meno perché alla fine ci sono delle cose che non tornano soprattutto nei quadri del castello. Però... È bellissimo. Qua si torna un attimo indietro. Poi tutti gli schermi ammassati, proprio ricordano i primi livelli. È di una bellezza. Un po' Cortex Power. Questi livelli assurdi del primo Crash. Qui a volte non devi nemmeno saltare, cioè devi spostare semplicemente... È quello che sto facendo. A proposito di giochi con l'analogico o con le levette? Attualmente con l'analogico. Ma io gioco con la croce. Ha molto senso, eh? In questo sì, secondo me. Il bello è che qui puoi istintivamente capire cosa fare, eh? Non è trial and error. Bellissimo. Per ora. Per ora sì. No, ok, perdonami. Per ora. Poi dopo è totale. Mi piace anche come ti introducano Crash, cioè che ti fanno queste carrellate per farti vedere. Il livello, poi. Anche qua ci sono dei nasconditi stronzi, eh? Cioè c'è un altro indizio qua. Ah, suona i barili. Mike, ti dà un trofeo. Se li suoni un po' tutti. Oh. Davanti dà un trofeo. Ok, figo. Ma che bello che è. Oddio no. No. Guarda sempre i muri per gli indizi. Passa la paura. Will do. Oh, c'è una gemma dentro una... Cassa. C'è del donbarino. Mike, Mike, Mike. Ma non andare avanti, non andare avanti. Oh, che paura. Guardati bene. Guardati bene intorno. Pensa, pensa, pensa in grande. Pensa in grande. Oh. In grande. Ma guarda bene la piattaforma. Te non sei vicino a una buca, eh? E' acqua quella. Cosa? Ok. E qui, 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 qui. Sì, vabbè. Non è vero. Sì, ma questo è... Cioè... L'ha fatto Miyazaki questo. Allora. Ma che diamine. Cioè, è tipo tutto quello che ti hanno insegnato che se lo rimangiano. È criminale. Al certo punto, guarda, ti verrà naturale fare queste cose per ogni altro. Quindi stai tranquillo. Ti stanno abituando pezzo dopo pezzo. Sì, ed è il motivo per cui muori. Esatto. E' quello che dicevo prima. Esplorerai talmente tanto che a un certo punto non c'è niente. Però intanto le morti te le hai esepato. Eh, io sono questo su Baldur's Gate Dark Alliance per ore. Madonna che bella che è l'acqua. Ok, basta. Ehm... Troppo introdurranno un nuovo tipo di casse che vedrai anche te. Prima volta che introducono queste casse. E le case che ti possono uccidere oltre le nitri. Ammazza. Con le fiamme. Eccole lì. Oh, oh! Ma pensa... Sì, puoi fare le combo, sì. Queste robe ce l'ho anche nei vecchi. Oddio. E poi distruggere, quando si spengono. Ok. Tra l'altro, qui scopri una roba simpaticissima. Vedi che hanno messo stavolta il nastro flashback un po' più lontano? Sai perché non puoi prenderlo? No. Perché devi arrivarci senza mai morire alle VHS flashback. Io non ci posso credere. E nell'ultimo livello è prima della fine. Ovviamente. Ovviamente. Questa cosa l'hanno ciucciata, per dichiarazione dei programmatori, dalle piattaforme morte che introducono in Crash Bandico 2. Cioè con le piattaforme che si attivano se arrivi in quel punto senza mai morire. E ti sbloccano per corso alternativo. Infatti sbloccano i nastri flashback. Mostri. Eeeh! Eccola! Bella! Vediamo se c'è qualche segreto qui. No? Ok. E con questo simpatico bonusino introducono un'altra cosa che vedrai da qui in avanti quasi tutti i bonus. Cioè il fatto che premere i pulsanti spesso non conviene farlo subito. Ah. Perché non ho messo una cassa qua sopra? Davidi. No, no, no. Lì la... E allora inizia a diventare conflottaro, però... Ecco qua. Oh no. Bastardi. Sì. Ok. Ah, dico... Foreclose, che è il tuo mod, puoi spinnare il messaggio. Mi sa che abbiamo iniziato già da un po' Crash 4, eh? Allora. Ma guarda, per esperienza i ragazzi a volte fanno delle domande che sono lì da tempo. Ok, ok, ok. Oddio! No! Ok. 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 Mamma mia, maestro. Ok. Oddio. Ah, che bella l'animazione. Sì, è vero. Gli faccio... Gli faccio tipo una... Uno stream deck con tutti i miei... E pigia lui... E pigia... Quello che gli fai. Credo che farò questo. Ok. 19 cast, è giusto per insegnarvi che si muore. Se fai la cosa troppo presto. Tritto il nostro, il Shark Jet e Cooks. Ce l'hai fatta? Sì. Taglie. Mamma mia, bravo però. Tanto non so se hai notato, però queste sono cose che a me fanno arrappare. Quando spacchi una scatola normale c'è un rumore, il rumore dell'esplosione della casta normale. Quando invece distruggi una scatola col pocherello, e dato che i fuochi vengono fuori da un pezzo metallico piccato nella scatola, ti senti il suono della scatola del legno che si rompe più del metallo. Che figo. Cioè cambia il suono, questa è una cosa molto carina secondo me. Ah, si torna le corde, eh? Eh sì, e non solo. Mi fanno sempre paura le corde, perché mi sanno... Oh no! Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì. Ahimè. Torna? Ok. Devo per caso... Questo è un incubo, eh? Sto perso, Michele. Qua inizia ad assaggiare un po' degli incubetti base. Però sono sempre... Come... Cosa vuole da me sta cosa? Non posso aumentare la velocità della... Ah, già. Vabbè. Ok. La grande trappola a pisellare. Sì, sì. È lei, è lei. Ah, ma non dovevo fare niente del genere, era abbastanza automatico. Recuperò subito, ragazzi. Cerco di andare veloce. Quella cosa che sale? Ah, era molto più semplice di quello che sembrava. Grazie, manager, per l'abbonamento. Va bene. Oh, Belin. Veramente. Non è vero. Ecco, è esattamente quello che doveva succedere. Vediamo se riesco a recuperare in maniera smart. Grazie Giulio Andreotti, grazie Jesus from Poggia, Fidipo, l'abbonamento. Allora, sì, sei sempre lì, quindi non sono ancora rimasto indietro. Oh mio Dio. Che paura stile. Lo sapevo io che avevo calcolato male i tempi. È caduto anche lui nella grande trappola dei piselli, fatemi vedere. Sì, sì, l'intreccio di cazzo. È in realtà è un inganno quello, Michele, è il più grande inganno dell'umanità. Stai attento. Non devi passare di lì, comunque, dico solo questo. Ok, ok, ok. Questo lo faccio, giusto per... Ok. È un grande inganno. Quella freccia è un grande inganno. Lo dico subito. Ok, ok, sono pronto. Non voglio responsabilità. Non ricordo se si passava di qui, sì. Ok. Vediamo, eh. È veramente tosta quella roba lì. Oddio! Di nuovo, stavo guardando la mappa. Tranquillo, tranquillo. Ora ti aiuto io. Aspetta un attimo. Eh, no, mi serve. No. Aspetta un attimo. Ah, fatti vedere un attimo. Fatti controllare. Fatti dare uno sguardo. Allora, non devi andare di là, Michele. È la grande trappola dei piselli, quella. Ricordati di questa cosa molto importante, Michele. Quando ti arrivi in fondo, a livello, e c'è il punto esclamativo che ti distrugge tutte le nitro, distrugge anche tutte le casse adiacenti alle nitro. Ok, quindi l'onda d'urto viene calcolata. Ok. Sì. Va bene, va bene. Accanto, o comunque vicino. Quella lì è la grande trappola pisellare. Praticamente ti spinge ad andare a sinistra, non devi andare a sinistra. Devi passare da un altro posto. Ok. Cioè questo. Cioè qui. Perfetto. Ma c'è una gemma lì. Eh, prova un po'. Non devi passare di lì. Ci si arriva da sinistra. Eh, bravo. Pensa la scivolata sospesa dei pisellari giganti. Bravi, bravissimo. Ora pensa che la scivolata va in parallelo. E lo so. Anche nel vuoto. E lo so. Ah, ma non ci arrivo. Sì, sì, ti è rincastrato. È bravissimo il pisellare finale. Bravissimo. Bravo. Ok, abbiamo. Adesso lascia i pedi perché tanto poi le scatole te le distrugge la nita. Incredibile. Oh, mamma mia. Serio? No, Mike. Tutti gli elementi con i punti dintorno si possono switchare. Che paura! Che spavento! Mi son preso. Ok. Ma porca. Piano di trappo, le inganni. Mamma mia. Che sofferenza. Ok. Ok. Bravo. Tra l'altro, quando muori spesso, il gioco ti inserisce dei checkpoint nuovi. Dove non c'erano. Spero che sia niente il livello. Con sto gioco per PS1 ho conosciuto le bestiemi. Dici, il brand è questo per PS1, a meno che non facciano un demake. Difficile. Oh, qua c'è una grande citazione sempre all'ira di Cortex. E' bellissimo sta roba, eh, Michele. Un incubo, però è perfetto. Che figata! Ovviamente puoi saltare anche con questa roba. Le mele ti aiutano molto a capire dove devi andare. Sì, esatto. Ma anche qua, se non prendi una cassa per sbaglio, c'è lui, ecco. C'è bravissimo. Bello che è. Ora, Mike, in questa sezione, devi pensare a quello che hai visto prima. Oh, ah, ok. Ho trovato una cosa strana, non so così. Oddio, cos'è? Ok. Ora, ok. No, non è possibile. Macchinina col telecomandino. Ma che dolcezza. Oddio, no, ho perso il Mega Boomba. Erano 20. Oddio. Merda, ci sono come cose che puoi perdere qua. Eh sì, tante, 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 tante. Io lo trovai in blind alla prima questa. Fui contentissimo proprio. Oh. Eh sì, perché Crash ha finito di ingannarmi, quel pezzo di merda. Non lo farà mai più. Non l'ha mai fatto da quando ero piccolo e non lo farà neanche la maggior ragione. Io ero quello che spacciava tutti i segreti di Crash a Colle Servetti. Tutti. Venivano da me, ero l'oracolo. Io con i Final Fantasy. Eh. Che lì è bei segretazzi, eh. Che bello. Wow. Pronti? Pronti al boss, giusto? E al flashback. Eh sì, bellissimo questo boss qui, tra l'altro. Dario, lo vogliamo mettere una volta per tutte che Crash è inferiore in tutto a Mario. Allora, è inferiore a tutto per quanto riguarda la lunga distanza. Questo Crash 4, però, allo stesso tempo, è molto, molto diverso rispetto a Mario Odyssey. Questa è una struttura a tunnel old school. Mario è un mondo completamente libero. Dipende un po'. Era come ai tempi della saga di Crash classica e Mario 64. Se ti piace il mondo libero, dove puoi fare mille cose, vai di mondo libero. Se vuoi la struttura a tunnel da A, B, vai di crescione. Io preferisco la struttura a tunnel, però Mario 64 è un capolavoro inestimabile. Cioè. Ok. Bravo, Mario. Grazie un po' che ce l'ha. Madonna! Quanto dura la... Ok. Ok. Ok, vid. Infatti, non so se è notato, ma nei livelli flashback ci sono canzoni dei primi Crash. c'è le tracce. Nemmeno rimasterizzate, proprio quelli. E io poi! Sbagliato. Aspetta, fammi fare anche un'altra cosa. Guarda che stronzi, lo sapevo, cazzo. Mike. Aha. Hai perso una casa, sicuramente. Guarda, sono morto abbastanza volte e forse non l'ho persa. No, no. L'hai persa. Ah, l'ho persa, sicuro? No. Ah, l'ha presa? Mio padre! Ah, wow. E là l'hai presa. Facciamo così. Ah, dal basso si possono. Ok, godo. Fammi un po' ragionare. Vai. Facciamo così. Madonna! Ah, checkpoint. Godo. Perfetto. Perfetto. Grazie per la mia tenda. Fra... Un quarto d'ora, anzi, come da progresso. Ormai Michele è pronto per il 100%. Gigantesco, ragazzi. Cassa micro è una tecnologia provvedente, ma va a profondire. Ho sbagliato la... Tutto. Ragazzi, Michele mi ha superato nel livello flashback. È finita per me. Posso andare a prendere il padre al chiodo, il ma... Sto diventando molto bravo. Devo recuperare, dai. Quello che approfondisce... Oh no, come ci arrivi? La lore della cassa. Oddio, santo. Cazzo. Cosa... Cosa... Cazzo. Vero veterano, vero treno. Tocca chiudere il canale, mi sembra un po' troppo. Ragazzi, ma... Virtualmente è come... Devo fare zig... No, devo fare... Oddio, ho capito. Non mi va. Come i bambini. Non voglio mangiare la verdura. E lo sapevo io che... Che ce l'ho fatta e poi ho fallito. Lo sapevo. Io lo sapevo che... Eh, sì. Ci tocca farla anche a me oramai, che non è che... Non è scuso, eh. Ecco, punto. Pensavo di non arrivarci. Tocca sveltire, dai. Molto forte, Michele. Mio padre, mi sa. Qui la difficoltà è altissima. Siamo allo secondo livello. Non ti dà nemmeno tempo di respirare. Io pensavo di sì, invece no. Moccia fa il broma e un 7. La tua mamma fa le pompe e un 10, invece. Scusate, c'è altro di Michele. Siamo un po' di volgarotti, eh. Siamo un po' al bar. C'è altro di Michele. Ma... La delicatezza con cui... Ti distrugge i sogni. Sai, questi qui... Bisogna ricordarsi tutti a me la dica, eh. Mamma mia, son puzzle. Sì, sì, te l'avevo un po'... Esatto. Introdotta sta roba e... Fanno tutto così. Tu me lo devo ricordare. Ma secondo me bastava passeggiare. Cioè, bastava andarci lì senza saltare. Niente. Lo sto sottovalutando e non è giusto nei confronti di Crash 4. Michele, devi praticamente arrivare all'angolino. Eh no. No, guarda. Ho capito. Cioè, ho provato diverse cose. C'ero anche riuscito. Ora voglio provare a non prenderlo, a distruggere l'initro e tornare indietro. No, ok. C'è anche quella tecnica lì, però devi... Praticamente andare proprio all'angolino e quando tocchi l'angolino fai una sorta di... Urva che esce sulla destra. Il fatto è che il dramma è stato che quello l'ho fatto first try, poi sono morto e non mi è mai più riuscito. Ok. Ma sei stronzo, eh. Dove ti fare, eh. Dove ti fare gioca. Grazie. Ma vabbè, già per ne è perso. No, la scivolata. Perché non ha funzionato? Perché quando fa lo schianto salta? Doveva andare verso il basso, non verso l'alto. Non credo che abbiano pensato anche a questo tipo di fisica, eh, Michele. Però... Chissà. Ok, Mike, dai, concentrati. Allora, ascolta me. No, ma non... Ok. Allora, te adesso non devi saltare qua. Te devi semplicemente buttarti con l'analogico sinistro. Appena lui tocca la scatola e fa il mega salto, come al solito sulle case rimbalzanti, parti subito tutto sulla destra. Ah. Ok. E poi fai una piccola... Bravissimo. Però devi farlo col saltone, con l'omega galattio. E poi fai una piccola... O fai così, oppure fai così, esatto. Bravissimo. Vabbè, va bene anche così. Così skipi tutto e... Sì, sì, sì. Non distruggere, mi raccomando, le scatole quelle lì. Bravo. Bravissimo. Ok. Evviva. Lo skip era la strategia, sai. Ora cado. Vai. Adesso si fa il boss. Molto figo questo boss. Che fai. Molto old school anche questo. Perfetto. Molto brutal legend. Bravo, sì. Una specie. Io devo provare ancora... Hi-Fi Rush, Dio Cristo. Molto bello. Eh, me l'hanno detto tutti prima o poi, tocca anche a me. Stai alla larga del mio rocket. Non ti piace il death metal. Bello. Belli, poi che ti vengono incontro con le corna, no? Quelli rossi... L'hanno saltati, no? No, ti puoi abbassare. Ah, sono alti. Sì. Quindi i rossi alti. Ah, è vero, sono alti. Puoi fare anche il doppio salto, però, cioè, ti conviene meno. Che bello. Che bello. Grazie, Umberto. No, grazie, Matteo Zucco. Oh, Dario. Che combini. Oh, i che combini. Che fa sempre... Oddio, si è accastrato. Oddio, si è bugato. Ma era mai successo, sto bug? Grazie, Umberto. Grazie, Matteo Zucco. Cazzo, era successo. Hai visto che gli hanno fatto i cuscinetti carnosi sotto le sole delle scarpe, tra l'altro? È carino. Bellissimo. L'ospettacolo deve continuare! Ops! Perfetto. Meraviglioso. Ci sei, siamo praticamente allo stesso punto. Non proprio. Sono stato killato. Ahia. Sì, però, qua, ecco, c'è questa estrema difficoltà nel gioco e poi la cazzata di mettere i checkpoint tra vita e vita. Ma che vuol dire? Vero, esatto. Infatti... Non ha nessun senso. Ti punisce tantissimo. E poi ti premia. Cioè, ti premia, ti piacevola un sacco. Scemo. Oh, la scivolata diagonale non va usata. Continuo a fare la scivolata into damage proprio. Io avrei messo le... Semplicemente... Che ricominci i boss. Ma sì, anche perché dura poco. Pronti, vediamo il maicone. Se vuoi essere hardcore, sì, lo fino alla fine. Bello. Bravissimo. Comunque, Mike, basta abbassarsi da fermi. Non c'è bisogno di fare la scivolata. Ah, posso abbassarmi da fermi? Sì, sì, sì. Merda, io sono scivolato due o tre volte contro le trappole. Ok. Hai ragione, però, è vero. È come per saltare. Oh, che forte. Questa roba di abbassarti e basta ti servirà perché dopo ci saranno proprio dei pericoli. Così. Oh, addirittura. Sì, col concerto, l'altro, loro in un mare di anime che fanno... Che bello. Beh, aspetta, non tu arrivano a palla. E' sempre in zona centrale, così. Esatto. Hai subito il controllo della map. Top. Bello. Preoccupatissimo, lui. Si occupa di rigenerare il robot. Bello, che è. Pronti? Bello, veramente bello. Che figata. Bravissimo, Mike. Che ispirazione è sto titolo, porca miseria. È fatto veramente bene. Fa tanto incazzare, però è fatto tanto, tanto bene anche. Sì, sì, fa anche incazzare, è vero. Grazie della serata. No, niente, grazie a te. Tra l'altro il prossimo mondo, se non erro, è quello. Guarda un po' qual è. Ah, ok. È quello dei pirati. Molto, molto figo. 1717. Sì, sì, è figo, è figo. Figata. Ciao, Michele. Ti lascio al resto. Grazie mille. È stato molto figo. Grazie a te. È stato molto bellino vederti in un altro genere, così. Grazie anche alla tua chat. Grazie a tutti. Ciao, Mike. Ciao. Buona serata. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. Questo lo avete, penso, ben capito. È uno dei videogiochi che, ovviamente, mi chiuderei a platinare con una completezza maniacale e animalesca. Grazie a tutti.